A fronte di 527 positivi riscontrati nelle ultime 24 ore sono 374 i guariti in tutta la provincia di Caltanissetta, un boom di guariti che corrisponde al boom di contagi delle settimane precedenti. E intanto i contagi aumentano anche se in ospedale non ci sono nuovi ingressi, anzi uno in meno rispetto ai giorni precedenti. Sono 166 i pazienti nuovi positivi di Gela, sono 141 quelli di Caltanissetta, 60 di San Cataldo e così suddivisi per i vari paesi della provincia. Ma nel dettaglio ciò che accade negli ospedali della provincia e anche in quarantena domiciliare. Sono 40 i ricoverati in ospedale in malattie infettive, non c'è nessun ricoverato in terapia intensiva. 1.158 i positivi in quarantena domiciliare a Caltanissetta, 10 i ricoverati. 1.428 i positivi in quarantena domiciliare a Gela, 19 i ricoverati. Sono 4.501 i positivi in quarantena domiciliare in tutta la provincia. E intanto ci sono ancora alcuni paesi della provincia che incrementano il loro numero di contagi. 535 a San Cataldo, un numero da tenere in attenzione. Sono 2 i ricoverati sancataldesi in malattie infettive. Ma ce ne sono 91 in quarantena domiciliare a Serra di Falco, che tutto sommato è un piccolo paese. E 165 sono i positivi a sommatino. Questa è la cartina di come il virus non è scomparso, anzi aumenta, proprio alla soglia della fine dello stato di emergenza.